Ciao a tutti, sono Mr.Dug e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presenterò come piantare i pomodori sul vaso. Iniziamo subito con la nostra sigla! Bentornati amici, allora, prima di iniziare dobbiamo avere un vaso pieno di terra per poter poi piantare le nostre piantine. Ecco, ora io ho comprato 6 piantine, ma ora iniziamo subito il procedimento. Iniziamo a muovere un po' la terra, essere così bella mossa da poter lavorarci meglio. Iniziamo a fare i primi buchi dove poter piantare le nostre piante. Più o meno lasciamo una distanza di circa 8 centimetri. Ora usiamo qualche pezzo di legno per lasciare, segnare i punti dove andremo a mettere le nostre piante. Io in questo caso ho fatto solo 4 fori, perché il vaso non è molto grande, ma se avete un vaso grande potete fare più fori. Dunque, a voi la scelta. Ora, iniziamo a prendere una piantina, prima di metterla nella terra, immergiamola nell'acqua, così le radici saranno belle rinfrescate. Per qualche 10 minuti possiamo lasciarle. Ora posizioniamo le nostre piantine nei punti che abbiamo indicato. Ora, con un altro bastoncino di legno, ci aiutiamo a mettere le nostre piantine sotto terra, così da poter nasconderla meglio. Una volta che abbiamo messo le nostre piantine sotto terra, iniziamo a coprirle bene, da far proteggere, a coprire anche per qualche centimetro il busto della piantina. Mi raccomando, usate sempre dei guanti per evitare di non far morire la piantina, perché trasmettiamo energia elettrostatica. Una volta completata. Abbiamo fatto questo procedimento, potremmo innaffiare la terra, le nostre piantine, e poi iniziamo a metterlo fuori dove c'è il sole, perché il pomodoro vuole molto caldo, mi raccomando. Grazie per aver visto il nostro video, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!